Finisco per dire che questo governo autorevole avrà il compito di fare, ma a mio avviso avrà anche il compito di disfare alcune delle più inaccettabili in termini costituzionali, iniziative e leggi prese da questa maggioranza. Mi riferisco evidentemente alla questione del decreto sicurezza bis che è già stata nominata, mi riferisco alla questione migranti, mi riferisco allo sperpero-sparpero dei fondi pubblici che ci porterà in una situazione di una finanziaria piuttosto difficile. Insomma, abbiamo bisogno di un autorevole governo del fare e di un autorevole governo anche del disfare.